ciao a tutti e benvenuti nel canale youtube della maschera riposta io mi chiamo mosè e in questo video voglio parlarvi di questa espansione per i giochi della saga the west kingdom o il regno occidentale per volerla dire in italiano che si intitola tom saga è l'ultimo prodotto di cui dobbiamo ancora parlare di questa saga perché abbiamo coperto tutti i tre giochi principali di questa saga architects paladins e v counts abbiamo coperto anche tutte le loro espansioni quindi se seguite il canale abbiamo fatto anche dei gameplay insomma se seguite il canale sapete che abbiamo tanto materiale su questi giochi ci piacciono molto e ci mancava solo questa espansione questa espansione ha due caratteristiche intanto introduce una modalità competitiva a campagna che permette di giocare in collegamento tutti e tre i giochi della saga quindi prima architects poi paladins e poi v counts avendo un vincitore di tutta la saga diciamo di tutta di tutta la campagna e della modalità su cui mi concentrerò maggiormente perché è l'unica che ho provato fondamentalmente fra le nuove modalità introdotte da questa e da questa espansione perché questa espansione dovete sapere introduce anche degli scenari cooperativi quindi una modalità cooperativa per tutti e tre i giochi della saga quindi una modalità cooperativa per architects una per paladins una per v counts ok adesso abbasseremo lo sguardo sul tavolo vi spiegherò un po meglio come funzionano tutte queste nuove modalità di gioco soprattutto quella a campagna poi ci troveremo di nuovo qui e vi dirò che cosa ne penso eccoci al tavolo signori questi sono tutti i componenti che trovate all'interno della scatolina di the west kingdom tom saga però ecco qui ci concentreremo soprattutto nella nei componenti collegati alla nuova modalità campagna ok che sono quelli che ho organizzato qua sotto quindi per il momento togliamo tutto il resto poi faremo qualche accenno ovviamente anche al resto ma concentriamoci su questo allora secondo me appunto l'aspetto più interessante di questa di questa espansione è proprio questa modalità campagna implementata implementata dal gioco che richiede di avere appunto tutti e tre i capitoli della saga quindi architects paladins e v counts e di giocarli in ordine così da avere un vincitore alla fine di questa di questa sorta di campagna e guardate funziona in questo modo vedete nel gioco c'è questa nuova plancia questa nuova plancia divisa in due parti che va tenuta diciamo di fianco alle plance principali dei giochi nel corso di tutta la durata appunto di questa campagna e poi guardate ci sono delle carte collegate ad architects che sono queste sei questi si chiamano tomes quindi figurativamente rappresentano dei dei libri poi ce ne sono vedete sei per paladins ce ne sono sei per v counts e poi ce ne sono tre vedete che sono che si chiamano si chiamano se non ricordo male crest tomes e che sono collegati appunto a questi a questi crest cioè a questi vedete a questi scudi a questi emblemi e allora intanto vedete bisogna organizzare questi tre tomi in questi tre spazi ognuno corrispondente vedete al suo al suo scudo e dal lato corrispondente al numero dei giocatori quindi se si gioca in tre o più vedete li si mette nel lato che ne rappresenta tre se invece si gioca in due li si mette nel sul lato che li rappresenta quattro che ne rappresenta quattro quindi in una partita due giocatori li organizzeremo in questo modo e metteremo anche il rispettivo scudo vedete nel nel rispettivo slot ok poi per cominciare la nostra partita di paladins appunto legata scusate di architects perché bisogna giocarli in ordine quindi bisogna iniziare con architects prendiamo il mazzo di carte relativo a architects lo mischiamo lo mischiamo a faccia in giù in questo modo ok poi scegliamo tre di queste carte allora le altre tre le mettiamo a faccia in giù di fianco diciamo alla plancia invece le tre che abbiamo scelto le mettiamo in questi tre spazi a faccia in su ok bene queste le mettiamo da parte per quando poi giocheremo ai due giochi successivi ok a questo punto signori funziona in questo modo nel corso della partita avremo dei nuovi obiettivi noi giocatori avranno dei nuovi obiettivi da raggiungere che sono quelli indicati sulle carte scoperte per esempio questa guardate dice che l'obiettivo posto da questa carta è avere otto unità di marmo quindi appena un giocatore nel corso della partita otto unità di marmo si prenderà questo tom questo è questa carta oppure guardate costruire quattro edifici il primo che costruirà quattro edifici si prenderà questo tom questa carta oppure guardate avere 14 virtue raggiungere il 14 nel tracciato della virtù ok come vedete questi obiettivi sono tutti collegati ad architects ok bene si procede in questo modo finché la partita non si conclude ok e ha tra l'altro per quanto riguarda architects se si gioca in modalità campagna la modalità campagna impone di giocare con il setup fisso e non con il setup variabile questo è un po beccato però il regolamento vabbè magari uno può ignorare questa 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 richiesta però diciamo che da regolamento bisogna giocare col setup fisso non non si può giocare col setup variabile a fine partita e quindi questi si ottengono nel corso della partita diciamo invece questi qua coperti ok si ottengono alla fine della partita in base al punteggio finale va bene e guardate viene spiegato viene spiegato qua vedete da questa simbologia vediamo vi faccio anche una zoomata ok viene spiegato da questa simbologia che cosa che cosa succede appunto alla fine della partita ok intanto bisogna decidere bisogna stabilire se chi ha vinto ha fatto una major victory o una minor victory vedete e che cosa significa questo significa una vittoria è major nel caso di architects vedete lo spiega questo simbolo se c'è se c'è fra i due giocatori è una 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 distanza diciamo superiore a questo valore ok quindi superiore a 10 vedete nel caso di architects se chi ha vinto ha vinto con una distanza di più di 10 punti ha fatto una major victory se invece ha vinto con una distanza di meno di 10 punti ha fatto una minor victory ok e vedete queste sono le ricompense in base alle vittorie quindi se c'è stata una major victory il vincitore si becca tutte e tre le carte coperte che abbiamo lasciato di fianco alla plancia il secondo classificato si becca uno dei crest uno di questi tre scudi non le carte ma uno di questi tre scudi ok se invece c'è stata una minor victory vedete quindi la distanza fra i due è minore diciamo di 10 punti o corrispondente anche a 10 punti perché deve essere di più di 10 punti perché ci sia una major victory beh in quel caso vedete il primo classificato si prende due delle carte coperte ok il secondo classificato se ne prende una delle carte coperte il terzo classificato se c'è se non stiamo giocando in due si prende uno degli scudi ok torniamo alla visuale diciamo generale ok e questo succede appunto a fine partita ok e non so se avete notato le carte allora le carte coperte diciamo non hanno nessun effetto no vengono tenute coperte per tutto per tutta per tutta la campagna spoileriamo subito il fatto che alla fine della campagna a vincere sarà proprio chi ha più tomes chi ha più di queste carte ok coperte o scoperte non importa ok anche queste valgono come carte queste qua si ottengono a fine partita questi tre tomi se abbiamo la quantità corrispondente di crest in nostro possesso ok quindi se ne abbiamo se stiamo giocando in due bisogna raccoglierne a meno quattro per prendere uno di questi tom se stiamo giocando in tre o più bisogna raccoglierne invece tre no come dicevamo come dicevamo prima ma mi direte voi se ce n'è solo uno come si fa a raccogliere gli altri si fa collezionando carte obiettivo perché vedete le carte obiettivo hanno anche dei crest disegnati quindi se io soddisfo questo obiettivo quindi se io giocando ad architects sono il primo ad avere otto unità di marmo beh signori a fine partita cioè a fine campagna avrò questo vantaggio qui vedete avrò anche questi questi crest ok ma attenzione signori c'è di più perché avrete notato che queste carte obiettivo oltre ad avere disegnati appunto questi scudi hanno anche disegnato vedete vedete una scritta nella parte inferiore questo è un vantaggio che avere queste carte ci darà nella partita successiva della campagna quindi in questo caso è un vantaggio che avremo in paladins infatti se ci fate caso sono tutte cose che hanno a che fare con paladins queste qua sotto cioè quelle sopra hanno a che fare con architects sono obiettivi per architects questi sono vantaggi che la carta ci dà in paladins per esempio questo dice ottieni una moneta dalle tasse prima che i giocatori selezionino i propri i propri paladini all'inizio di ogni round quindi in pratica da dei delle monete all'inizio di ogni round questa qua invece guardate quando si fa l'azione develop si paga una moneta in meno vedete l'azione sviluppo che permette di mettere le casette verdi vi ricordate sopra alcuni spazi azione così da rendere le azioni più economiche oppure vediamo questa qua aumenta un attributo cioè fai salire diciamo un segnalino attributo di uno spazio se sei il primo a passare ogni round ok ogni ogni volta che sei il primo a passare puoi aumentare gratuitamente una delle tue abilità anche questa è molto è molto potente quindi ottenere queste carte non solo ci dà un tomo a fine partita non solo ci dà queste crest che potrebbero farci ottenere un altro tomo se riusciamo a collezionarne in numero sufficiente ma ci danno anche delle abilità appunto nella nella partita successiva ok quando viene quando si finisce una una determinata partita e tutte queste carte naturalmente che non sono state prese vengono scartate e si procede al setup della partita successiva ok e attenzione ci sono delle 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 importanti modifiche al setup che vanno fatte per paladini e per visconti in relazione a quello che è successo nelle partite precedenti quindi quando si fa il setup di architects non è che ci sia uno in vantaggio in svantaggio perché si sta iniziando la campagna invece quando si fa il setup di paladini e di visconti naturalmente c'è uno in svantaggio e la modalità campagna prevede delle un paio di modi diciamo per avvantaggiare per avvantaggiare chi è in svantaggio per cercare di colmare in un certo senso le distanze allora guardate il primo modo è spiegato anche sulla plancia vedete in questo in questo testo ok allora quando si prepara appunto paladini o visconti vedete cosa dice la plancia guadagna un una moneta durante il setup è uguale alla differenza che c'è fra i tomi e fra te e il giocatore che ne ha di più ok quindi non lo so la partita si è conclusa con una major victory ok quindi il giocatore si è preso tre tomi il vincitore io non sono il vincitore però magari io mi sono preso un tomo obiettivo no nel corso della partita magari sono riuscito a fare uno dei chiaro obiettivi quindi la differenza fra i nostri tomi è di due beh io inizierò la partita con due monete in più inizierò la partita paladins con con due monete in più ok queste per quanto riguarda le carte con con relative ai ai crest rimangono qui finché finché qualcuno non se li prende lo stesso vale per questi per questi per questi crest e poi naturalmente si passa alla organizzazione delle carte alla selezione delle carte per la partita per la partita successiva però stavo dicendo che c'è anche un'altra modifica c'è anche un'altra piccola modifica che interviene per cercare di in un certo senso colmare un po le distanze no e non avere il problema del runaway leader e guardate ve lo voglio leggere dal manuale no perché potrebbe essere potrei farmi potrei incasinarmi nel nel nello spiegarlo allora guardate è spiegata qua paladins envy counts only ok cioè solo durante paladini e visconti e allora durante il setup dai il segnalino primo giocatore al giocatore che ha vinto il gioco precedente e questo potrebbe sembrare strano no ma guardate come va avanti però dopo che il setup è completo devono passare il loro il loro segnalino primo giocatore al giocatore successivo in ordine in senso orario ok questo perché fare sta roba perché ogni gioco fa selezionare per primo le carte cittadino iniziali all'ultimo giocatore in ordine di turno ok così facendo il vincitore seleziona la sua carta cittadino per ultimo in ordine di turno ma poi inizia anche per ultimo in ordine di turno ok quindi ha diciamo questo ulteriore elemento di svantaggio che serve a evitare appunto il problema del runaway leader ok per quanto riguarda paladini e visconti si procede allo stesso modo quindi anche qua anche nel caso di paladini si mescola questo mazzo di carte se ne dispongono tre scoperte qui e ecco qua uno due tre e si lasciano le altre tre coperte di fianco di fianco alla plancia e vedete anche qui abbiamo tre obiettivi per paladini e tre vantaggi per visconti nella parte bassa no leggiamoli così ci facciamo una vaga una vaga idea per esempio questo qua dice costruisci cinque workshop no e il vantaggio che ci dà in visconti è ottieni una risorsa ogni volta che giri un did una delle carte rosse di visconti oppure vediamo questa l'obiettivo è avere cinque cittadini al proprio servizio e il vantaggio per visconti è ottenere un una moneta per ogni lavoratore che si muove nel secondo tier del castello nel secondo livello del castello anche questo è un buon vantaggio qui l'obiettivo per paladini è avere almeno quattro in ogni attributo e il vantaggio in visconti è hai bisogno di un manoscritto in meno per prendere le le cleric bonus cards le carte che danno bonus una volta che si sono fatti dei set di carte uguali di carte manoscritto uguali ok si procede fino alla fine della partita poi si calcola se è una major victory o una minor victory però attenzione perché come vedete per paladini ci deve essere una distanza differente diciamo quindi vedete per paladini la distanza deve essere maggiore di 12 affinché la vittoria sia maggiore per visconti deve essere maggiore di 15 vedete affinché la vittoria sia sia maggiore ok e si procede e si procede in questo modo poi anche per visconti quindi si assegnano questi tomi naturalmente al in base appunto alle alle vittorie questi vengono assegnati a chi raggiunge l'obiettivo per primo se qualcuno lo raggiunge qualcuno potrebbe anche non non venire nemmeno assegnato ok e poi si passa appunto a visconti le carte di visconti sono un po diversi perché ovviamente non hanno vantaggi per il gioco successivo però la logica è esattamente la stessa quindi mischiamo queste carte ok tre le teniamo coperte di fianco alla nostra plancetta per la plancetta la plancia generale e le altre tre si dispongono scoperte in questi spazi no vediamo quali sono gli obiettivi vedete questo è avere per primi sei manoscritti questo è avere 12 lavoratori nel castello ok questo dice avere tre criminal cards on your board le carte col teschio avere tre criminali sulla propria plancia personale anche qua chi raggiunge per primo questi obiettivi questi obiettivi si prende questa 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 carta a fine partita signori chi ha più carte diciamo tom's queste qua che siano coperte o scoperte non fa nessuna differenza si sommano tutte queste carte di tutti e tre i colori si sommano anche queste se qualcuno le ha prese e chi ne ha di più è il vincitore questo è come funziona appunto questa modalità questa modalità campagna noi l'abbiamo giocata credo tre volte e devo dire che l'abbiamo trovata molto molto interessante e molto molto ma ma ne parleremo meglio un attimo tra un attimo appunto quando faremo diciamo la nostra valutazione valutazione conclusiva invece adesso vi voglio mostrare velocemente tolgo dall'inquadratura gli elementi appunto relativi alla modalità campagna e vi voglio mostrare velocissimamente gli elementi invece relativi ai nuovi scenari ai nuovi scenari cooperativi vedete il manuale io questi non li ho mai giocati e quindi ho dato solo una scorsa velocissima alle regole fondamentalmente l'idea vedete c'è uno scenario cooperativo per architects ce n'è uno per che ha vedete queste spiegazioni ce n'è uno per paladins eccolo qua vedete hanno lo stesso codice di colore peraltro i titoli e ce n'è uno infine per visconti ok quindi in realtà guardate la maggior parte del materiale aggiunto ci sono anche queste bustine vedete che io non ho neanche usato la maggior parte del materiale aggiunto in realtà da questa da questa scatola riguarda proprio queste modalità cooperative c'è molto più materiale vedete tutte queste carte vedete queste c'è anche uno standee questo deve diventare uno standee ok ci sono delle vedete delle tesserine da mettere eccolo qua il supporto per lo standee adesso non mi ricordo neanche in quale dei tre va utilizzato questo standee queste qui vanno posizionate su alcune plance per correggere gli effetti diciamo di determinate di determinate azioni vedete c'è anche c'è anche questa e ci sono tutte queste anche questa qui vedete questa è per architects chiaramente e tutte queste carte allora l'idea di base è che fondamentalmente c'è un automa no è un po come una versione diciamo alternativa del gioco in solitario in un certo senso no c'è un automa che controllerà vedete questi lavoratori e si chiama il ha anche un nome no ed è anche quello rappresentato da quel da quel eccolo qua l'overlord si chiama è anche rappresentato appunto da questo da quello standee ok e fondamentalmente l'overlord agisce alla fine di ogni turno di solito no in ognuno dei in ognuno dei dei giochi ma soprattutto ci dà degli obiettivi cioè è come se in un certo senso ci chiedesse il pizzo no sto overlord ok cioè ci impone di fargli delle donazioni di raggiungere degli determinati obiettivi e se non soddisfiamo queste richieste abbiamo delle penalità no quindi siccome i giocatori vincono tutti o perdono tutti hanno l'interesse nell'aiutarsi a vicenda no e per esempio non lo so una delle modifiche più importanti in paladini è il fatto che tutte le azioni della parte sinistra della plancia le azioni di supporto in un certo senso possono essere fatte non verso di sé ma verso un altro giocatore no quindi io per esempio potrei fare l'azione develop in paladini ma mettere la casetta verde non da me ma da un altro no quindi c'è tutto un intreccio diciamo di azioni di azioni possibili no e c'è l'overlord che controlla che controlla questi pezzi no e che appunto ci pone questi obiettivi però ecco non voglio andare oltre perché non ho mai provato questa modalità quindi se vado oltre rischio di dire magari delle idiozie quindi ecco se siete particolarmente appassionati di versioni cooperative di giochi di giochi german beh questa sicuramente è una modalità che a voi piacerà invece l'ultima roba che voglio aggiungere riguardo a questa a questa scatola è il fatto che dentro ci sono anche degli elementi da aggiungere semplicemente ai alle partite normali di gioco vedete sono questi elementi qua quindi sono vedete quattro nuovi possibili personaggi per così dire setup variabili da usare in architects no judith emma vedete merovec e guntram no che hanno ognuno vedete il loro setup il loro setup variabile quindi questi possono essere utilizzati in qualunque modalità ok modalità campagna partita singola modalità cooperativa e poi guardate ci sono anche queste carte allora queste sono queste qua sono per v counts vedete queste possono essere aggiunte al mazzo dei dei cittadini di v counts hanno questa stellina vedete le anche le carte aggiunte dalle big box credo avessero questa stessa no forse quelle avevano una scatola no 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 cos'era che aveva la stella c'era qualcos'altro forse i bonus kickstarter avevano la stellina ma insomma comunque anche queste hanno la stellina e invece queste qua sono dei town folk dei cittadini da aggiungere in paladins quindi vedete c'è un'aggiunta diciamo per per v counts un'aggiunta per paladins e questa aggiunta e questa aggiunta per architects queste appunto possono essere aggiunte a qualunque a qualunque partita questo signori è il contenuto di the west kingdom tom saga allora signori com'è tom saga l'espansione che introduce questa modalità campagna nella saga west kingdom beh ragazzi io devo dirvi la verità sono veramente veramente contento e quasi entusiasta di questa di questa espansione ok anche al di là poi di quelli che sono i suoi meriti principali perché dovete sapere che se c'è un elemento di cui spesso sento la mancanza nei giochi german diciamo negli euro game è proprio il non avere delle modalità campagna ok cioè il non avere la possibilità di legare assieme tante sessioni di gioco no e chi ama soprattutto i giochi narrativi o anche i giochi 4x che spesso hanno delle durate enormi possono organizzare questi queste maratone no quindi non lo so uno può mettersi lì con sleeping gods con non lo so immagino anche tainted grail anche se non 5 6 ore è tutto in qualche modo collegato no cioè non ti dà la sensazione di essere frammentato di essere tante partite a cose diverse non ti dà l'impressione di essere una roba che continua che prosegue ok ecco quando mi è capitato diverse volte no di voler fare che ne so tutta una giornata dedicata a dei ai ai giochi da tavolo no però i miei giochi preferiti sono appunto euro game e quindi alla fine c'è la sensazione di avere qualcosa che manca rispetto a chi più a chi può organizzare queste maratone avendo comunque un senso di continuità no in quello che sta facendo ecco quindi mi piace molto e spero che mi piace molto questa idea e spero che molti altri autori la prendano in considerazione ok amici che fate giochi non lo so perché ci sono autori no che fanno che fanno giochi in serie no per esempio anche non lo so i giochi di 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 no certi giochi di daniele tascini per esempio appartengono in un certo senso a una serie no che ha delle caratteristiche che li lega ok ecco no anche anche in quel caso qualcuno faccia per favore una modalità una modalità campagna magari esiste non ufficiale ma insomma no leghiamoli in qualche modo no anche se il legame tematico è labile chi se ne importa insomma spesso il tema è labile no in questi giochi in ogni caso quindi dateci la possibilità di fare delle maratone appunto avendo la sensazione di stare contemporaneamente giocando a tante cose ok quindi non una maratona perché un gioco è interminabile diciamo sto giocando a tante cose però comunque queste tante cose appartengono a un tutto no appartengono a un tuttuno che da molta soddisfazione questa cosa e secondo me tra l'altro questa espansione lo fa veramente bene in questo caso perché appunto da un premio molto chiaro e molto forte a chi vince ognuno dei tre giochi però da dei bei premi di consolazione per così dire anche a chi non vince ma comunque ha un buon piazzamento no così da mantenere magari non tutti in gara magari ecco se si gioca in quattro magari dopo la prima partita la seconda si capisce che qualcuno non ha speranze diciamo nella terza partita nella partita di count non ha speranze diciamo cioè l'unica roba che può fare è vincere quella partita ma non ha speranze però ecco fra i primi invece classificati c'è fino all'ultimo la possibilità di la possibilità di sparigliare le carte diciamo ed è molto bella anche l'idea che alcuni dei punti vittoria perché alla fine stitomi ste carte sono punti vittoria per la campagna e alcuni sono assegnati in base a chi vince la partita ma altri sono assegnati in base a obiettivi che non necessariamente si collegano alla vittoria no magari io anzi per vincere devo applicare una strategia che va contro l'ottenimento di questi obiettivi no questo è molto è molto interessante non so per esempio prima dicevamo che che uno degli obiettivi di visconti vi ricordate abbiamo visto che è avere tre carte criminali no sulla propria plancia a me capita spesso di vedere che molti giocatori giocando a visconti evitano come la peste no le carte criminali ok quindi no non se non sempre le strategie che applichiamo per vincere sono affini o in qualche modo compatibili con le strategie che potremmo applicare per ottenere queste 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 carte diciamo scoperte no quelle scoperte ok quindi c'è un bel bilanciamento anche no fra il tentare di raggiungere questi obiettivi e il tentare invece semplicemente di vincere per ottenere appunto le carte coperte poi bello anche il meccanismo degli scudi no che ti permette di ottenere ti dà un altro modo diciamo per ottenere punti vittoria appunto carte che ti danno la vittoria alla fine della partita non mi esprimo per quanto riguarda le modalità gli scenari cooperativi perché non li ho mai giocati non amo particolarmente come sapete giocare cooperativo da tavolo almeno quindi ecco per quello per avere un'opinione più circostanziata su quello rivolgetevi a qualche altro creator perché io direi assolutamente delle robe campate in aria ok l'unica roba che dico è che come già accennato prima sembrano del tutto simili alla fine alla modalità a giocatore singolo solo che invece di scontrarti direttamente con l'automa anche in questo caso c'è un automa è solo che invece di scontrarti direttamente con lui ti scontri con lui insieme agli altri giocatori e questo automa oltre a diciamo darti del filo da torcere in termini di punti per così dire ti dà soprattutto filo da torcere nel darti questi obiettivi che devi per forza raggiungere nel corso della partita quindi potrebbe essere per chi ama questo genere di modalità può essere interessante e allora signori questo è quello che penso di tom saga voglio approfittare dell'occasione per dirvi anche cosa penso guardate ho qua mi sono preparato le tre big box relative a questi giochi allora lasciamo sempre questo che è il protagonista del video visibile ma guardate questa è la big box di architects ok eccola qua ok questa è la big box di paladins guardatela eccola qua ok tra l'altro interessante il fatto che abbiano il nome vedete solamente solamente così sul lato e questa vedete la big box di visconti di v counts eccole qua ok sapete che in origine questi giochi sono stati commercializzati in scatole molto piccole credo fossero grandi come due di queste quindi immaginatevi due di queste una di fianco all'altra quindi comunque molto più piccole diciamo rispetto rispetto a queste e però per contenere tutte le espansioni garfield games ha o garpili games perché non ho mai capito come si dice ha realizzato queste big box acquistabili separatamente ciascuna delle quali aveva dentro anche del materiale promozionale aggiuntivo carte da aggiungere ai mazzi per esempio forse la modalità più interessante aggiunta dalle big box è la nuova modalità sono i nuovi lavoratori gialli introdotti da paladins che oltre a essere lavoratori giolli hanno anche un'altra funzione scontano di uno forse l'azione adesso non non mi ricordo non vuole dire un'idiozia ma insomma quindi introducono anche delle piccole varianti però insomma permettono di tenere in una scatola tutto il materiale sia del base sia delle espansioni perché architects ha avuto due espansioni paladins ha avuto un'espansione v counts ha avuto due espansioni oltre a questa ok non credo che i materiali di questa vadano qua dentro almeno non ho mai provato a incastrarceli non credo che ci stiano almeno non credo ci sia nessuno slot diciamo atto a contenere quindi questa scatolina bisogna tenerci per forza insomma se la compriamo da qualche parte credo almeno allora amici vi voglio dire che capisco l'idea dietro a queste big box che poi big box alla fine sono scatole grandi come quelle di qual quasi qualsiasi altro gioco da tavolo di medio peso no di solito hanno di medio peso o anche pesanti insomma di solito hanno hanno scatole di questa di questa dimensione quindi l'anomalia semmai alla scatola del gioco base sono prodotti insoddisfacenti secondo me complessivamente queste big box ed è l'unico prodotto di garfield games provato finora cioè di questa casa di produzione che mi sentirei di definire insoddisfacente quindi è una roba che mi ha veramente scioccato insomma vedere appunto sono insoddisfacenti perché hanno un insert unico di plastica all'interno non velocizzano minimamente il setup tra l'altro questo insert di plastica interno ha anche delle imperfezioni che sono delle ingenuità imperdonabili per autori e produttori con un'esperienza del genere per esempio questa roba da pala in paladins e in v counts l'hanno corretta ma in architects è un delirio tirare fuori le carte dai loro slot perché le carte entrano perfettamente negli slot se sono imbustate e non c'è nessun modo per tirare cioè bisogna praticamente scavare distruggerle per toglierle da questi alloggiamenti in cui entrano perfettamente in v counts forse anche in paladins non mi ricordo nell'insert hanno avuto l'idea geniale di mettere un semplicemente un una specie di collinetta sotto lo slot così basta diciamo premere il dito dentro e le carte un po si sollevano ok però ecco queste ingenuità sono veramente imperdonabili per per dei produttori appunto con questa esperienza ok quindi complessivamente non so se mi sentirei di consigliare queste big box forse non le consiglierei ok forse sarebbe stato molto meglio anzi sicuramente sarebbe stato molto meglio se i giochi fin dall'inizio fossero usciti in scatole di queste dimensioni che sono dimensioni normalissime ripeto con dello spazio vuoto che poi viene riempito dalle espansioni no sarebbe stato molto meglio ok che è forse quello che si sta facendo nella saga del south tigris perché nella saga come si chiama wayfarers of the south tigris il primo titolo è uscito subito in una scatola come questa io non so se avrà delle espansioni per il momento non è stato annunciato nulla è probabile che abbia che le che che vengano fatte delle espansioni in futuro ma insomma io spero che l'idea sia metterle tutte dentro la scatola del gioco base farle stare tutte dentro la scatola del gioco base alla fine è sempre una tristezza infinita quando la pubblicazione di una big box ti lascia in casa queste scatole vuote che occupano un sacco di spazio che non hai il coraggio di buttare se sei se sei insomma perché sono anche belle spesso con dei begli artwork un bel cartone buttarle nella raccolta della carta sembra veramente un delitto quindi ti ritrovi la casa che diventa una discarica perché tu metti bello nello scaffale la tua big box e poi nell'armadio ma nel magazzino in garage ti trovi queste questi cumuli di scatole vuote che non riesci a buttare via non sai cosa fartene bisognerebbe regalarle a qualcuno regalarle in giro ma perché uno dovrebbe prendersene che non hanno niente dentro cioè per fare delle decorazioni provare del decoupage forse bisogna risolverlo sto problema e amici per favore guardate ha avuto una grande idea secondo me è jamie stegmaier ok che con l'ultima espansione di tapestry e il cui preordine gli ordini sono stati aperti pochissimo da pochissimi giorni nel momento in cui sto registrando questo video oggi cos'è il 7 marzo mi sembra del 2023 mentre sto girando questo video ecco l'ultima espansione di tapestry ok verrà spedita a chi la ordina e dentro una busta di cartone tipo quelle che usa amazon per spedire i libri no i cd ok una busta diciamo che proprio è stata fatta per essere buttata ok e i componenti dentro entrano nella scatola principale di gioco ok senza problemi perfetto bravissimo vogliamo che tutti quelli che fanno espansioni fa queste le espansioni di questi giochi qua potevano tranquillamente essere fatte in questo modo ok busta busta di cartone tanto cos'erano i componenti delle espansioni un po di carte due plancette tutte piccole ripiegabili cos'erano erano robe che potevano perché fare delle scatole belle anche che poi ci rimangono sul groppone ok scusate il rent ma secondo me ogni tanto è necessario ecco spero che si vada progressivamente in direzione nella direzione diciamo tracciata in un certo senso da questa espansione di tapestry che non mi ricordo neanche più come si chiama fantasies and futures forse comunque l'ho preordinata non preoccupatevi ne parleremo in futuro tapestry è un gioco molto controverso ma che a me piace molto quindi avremo modo di riparlarne in futuro va bene signori basta mi fermo qua questo è quello che penso di tom saga e delle big box della saga del west kingdom stavolta veramente abbiamo parlato di tutto ciò che di cui si poteva parlare però non escludo di in realtà tornare a fare contenuti dedicati a questi giochi in futuro per esempio abbiamo fatto con martina un gameplay completo di architects beh quasi quasi io farei un gameplay completo in futuro anche di paladins e anche di v count quindi a quel punto con tutte le espansioni non così a quel punto abbiamo veramente trattato tutto il trattabile di questi giochi ma come stavo dicendo ci piacciono molto abbiamo molto questo autore e questa casa di produzione ok tranne quando fa le big box ok va bene amici grazie mille per aver guardato questo video spero vi sia piaciuto fatemi sapere i vostri commenti naturalmente qua sotto se condividete le nostre osservazioni e le nostre critiche e fatemi sapere se avete giocato la modalità cooperativa questo mi interessa molto di questi giochi come le avete trovate se sono interessanti e da consigliare per chi ama queste modalità di gioco e io naturalmente vi saluto e vi do appuntamento a tutti i prossimi video che pubblicheremo qui sulla maschera riposta ciao ciao e grazie per aver guardato questo video alt fermi lì non andate via perché mi è venuta in mente un'altra cosa che devo aggiungere amici dovete sapere che da pochissimi giorni nel momento in cui stiamo girando questo video è disponibile sono disponibili per queste big box degli insert personalizzati che risolvono i problemi di cui parlavamo prima che hanno gli insert qua dentro quindi insert che velocizzano il setup realizzati dalla ditta folded space ok e ultimamente la ditta folded space abbiamo già parlato un po dei loro insert in altre occasioni se non ricordo male in passato è una è una vita che produce è una compagnia che produce questi insert personalizzati in foam core questo materiale che non so come tradurre in italiano insomma questo cartoncino però un po spugnoso anche non so come non so come si traduca come si traduca in italiano e insert che vanno montati che vengono spediti sono praticamente questi fogli di questo cartoncino un po spugnoso tipo delle fustelle vanno tolti i pezzi dalle fustelle e vanno montati bisogna usare un po di colla quindi insomma bisogna fare un po di bricolage diciamo per montarli e hanno realizzato degli insert personalizzati per tutte e tre queste big box ok e tra l'altro i loro insert per queste big box sono anche colorano degli elementi anche colorati perché quindi sono anche illustrati diciamo questa è una novità per folded space fino a questo momento i suoi insert sono sempre stati estremamente sobri no di questo colore grigetto cioè avevano unicamente un obiettivo pratico per così dire no non tanto un obiettivo estetico d'accordo beh nel caso degli insert per queste big box invece sono anche piacevoli da vedere non sono diciamo ultra sciccosi come gli insert prodotti da altre compagnie che sono anche molto più costosi però ecco permettono di velocizzare il setup sono molto carini anche questi vanno montati io non li ho ancora presi ma mi sa che alla fine cederò sono un po titubante perché alla fine il bundle per tutti e tre gli insert per queste big box costa 70 euro quindi non è non è pochissimissimo no il fatto che siano appunto stampati a colori insomma un po decorati ha fatto salire il prezzo rispetto alla media no non mi pare che mediamente costassero così insomma costassero più di 20 dollari no di 20 dollari barra euro gli insert di questa di questa ditta anche in questo caso tra l'altro c'è un link con tapestry che già facevamo prima perché dovete sapere che uno dei motivi per cui jamie stegmaier ha fatto l'ultima espansione di tapestry senza una scatola è anche perché contemporaneamente a quella a questa terza espansione per tapestry esce anche questo insert di folded di folded space appunto di questa ditta che è anche quello colorato tutto bello sciccoso e che è stato fatto per tapestry per la scatola normale di tapestry ok non per non esiste una big box di tapestry per la scatola normale di tapestry che ha questo insert di plastica che ruba un sacco di spazio nella sua versione normale diciamo ecco mettendoci dentro l'insert folded space ci stanno tutte le espansioni ok nella scatola base del gioco anche plans and ploys arts and architecture e appunto l'ultima che mi pare si chiama si chiama i fantasies and futures ma non ne sono sicuro al 100% ok il primo insert colorato e più sciccoso fatto da folded space è stato proprio fatto per la big box per la big box scusate per la scatola normale di tapestry ed è stato fatto in collaborazione con stonemaier games che infatti la vende anche direttamente nel suo nel suo nel suo sito ok quindi la si può comprare sia da folded space sia anche direttamente da stonemaier games ok quindi forse è in seguito a quell'esempio o potrebbe anche essere il contrario e magari l'idea è venuta prima per queste big box e poi per per tapestry non so chi sia stato il primo ma insomma è da questo da queste settimane che folded space ha cominciato a fare questi insert un po' più sciccosi anche un po' più costosi sfortunatamente ma insomma si capisce essendo appunto di valore maggiore dal punto di vista dal punto di vista estetico basta volevo dirvi anche questa cosa vi metto qua sotto i link vi metto qua sotto i link alla pagina di folded space dove potete se volete prendere sia uno sia anche tutti e tre gli insert personalizzati per queste per queste big box bene basta stavolta ho finito davvero grazie ancora per aver guardato questo video e ci vediamo le prossime volte ciao ciao grazie a tutti